Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove mostrò come scaricare un programma che si tratta di Atube Chatcher col quale si può scaricare video da Youtube oppure registrare video automaticamente bene, Atube Chatcher ha un programma più preciso e per scaricarlo è molto semplice, ecco questo è il programma purtroppo il mio pc è molto lento quindi andiamo avanti i video si possono scaricare in vari formati quella che sclera poi si può attivare il Turbo Download, il Download Youtube Youtube HD e poi si può anche spegnere il computer si può anche spegnere il computer quando si è fatto quello che si doveva fare ok, ora andremo a scaricarlo e poi vi farò vedere anche come come usarlo insomma ok Google è partito andiamo su Google e invece di fare così scriviamo qui scriviamo a Atube Chatcher proprio qui sul sull'indirizzo web e dobbiamo aprire questo sito della Softonic dove poi faremo vabbè download gratis qui vabbè download sicuro vi assicuro che non vi porta virus andiamo avanti come funziona prendiamo un video su Youtube si no prendiamo si il mio video dai andiamo sul mio canale si prendiamo dai l'ultimo video sulla pistola delle bustine bene ora basta copiare l'indirizzo web fare copia e aprire Atube Chatcher di solito quando usate copia sull'indirizzo web se aprite Atube Chatcher troverete già l'indirizzo in caso contrario se già avete usato Atube una volta per scaricare un video dovete rincollare qua potete vedere già c'è l'indirizzo web comunque se poi dovete rifare dovete fare incolla e poi scarica potete pure annullare o pausare il download poi possiamo anche passiamo a Scheme Record dove possiamo registrare appunto io sto registrando dobbiamo selezionare l'aria possiamo anche dire quanto fermarlo se riducirlo all'avvio e roba varia bene qui Mr.Jung è tutto commentate e iscrivetevi e votate come potete vedere sto usando Atube per 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 registrare quindi commentate e iscrivetevi alla prossima grazie a tutti